Il Rozzamelone è una montagna delle Alpi Piemontesi che è alta 3538 metri ed è un po' il simbolo della valle di Susa. Questa vetta soprattutto negli ultimi periodi è molto frequentata dagli escursionisti ma anche dai pellegrini che devono comunque essere esperti di montagna che ogni anno il 5 agosto salgono in vetta per celebrare la festa della Madonna della Neve. Qui infatti si trova il santuario Nostra Signora del Rozzamelone che è il santuario più alto d'Europa. La Madonna è raffigurata da un'imponente statua in bronzo che è stata realizzata nel 1899 e portata in vetta a spalle dagli alpini del battaglione Susa. È una meta che per gli alpinisti è facile da raggiungere ma per i tanti che come me non possono o non vogliono mettersi a rischio hanno la possibilità di andarsi virtualmente guardando il video che il bravissimo Alessandro Morolla ha messo in rete. Per chi apprezza la natura e ama vedere il mondo dall'alto questo video per me è assolutamente ben fatto e da non perdere. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!